Secondo alcuni siti web, tra cui wikipedia.org, giornalista professionista dal 1974, conseguì il Master of Science in Journalism della Columbia University a New York nel 1980. Inviato del Corriere della Sera dal 1976 al 2000, divenne noto per le inchieste e i reportage su casi scottanti del terrorismo internazionale e italiano negli anni di piombo e sullo stragismo, come il caso Moro e la strage di Ustica. Non c'erano metastasi al cervello quando il giornalista Andrea Purgatori è morto. È l'esito concorde degli esami istologici che sono stati completati ieri nell'ambito dell'indagine avviata dalla Procura di Roma per omicidio colposo nei confronti di due medici. Il professor Gianfranco Gualdi, responsabile della radiologia della Casa di Cura più undicesimo di Roma, e il dottor Claudio Di Biasi, membro della sua equip. I due sono stati iscritti nel registro degli indagati, come atto dovuto, dopo che i familiari del giornalista hanno presentato una denuncia per capire se Purgatori è stato sottoposto a cure corrette, e soprattutto se la diagnosi fatta era corretta. Ieri c'è stato un incontro.